Da lunedì 19 ottobre visite vietate nelle residenze sanitarie assistite in funzione in Toscana. Lo ha deciso il presidente della regione toscana Eugenio Gianni firmando una nuova ordinanza che resterà in vigore per tutta la durata dell'emergenza nazionale legata alla pandemia di covid-19, il cui termine attualmente fissato per il 31 gennaio 2021. Il provvedimento è stato emanato in considerazione dell'aumento considerevole di nuovi focolai di covid scoppiati fra gli ospiti e il personale di alcune case di riposo. Familiari ed agenti potranno comunicare con videochiamate e messaggi. L'ordinanza regola anche i nuovi ingressi e l'esecuzione di test rapidi, tamponi e vaccinazioni per il personale e gli ospiti. Eventuali eccezioni al divieto di visite saranno valutate dalle direzioni delle singole strutture.